La birra di oggi arriva dal Belgio, è una novità sul mercato italiano perché è arrivata proprio questa estate e si chiama Jolly Poupé. Come al solito vediamo subito la scheda tecnica di questa birra, Brasserie Lupulus, siamo appunto in Belgio, Brasserie Lupulus ex Brasserie Trois Forchettes, il nome di questa birra è appunto Jolly Poupé, si tratta sullo stile ho ancora qualche dubbio perché credo sia una Amber Ale anche se sulla bottiglia è indicata generalmente come Red Ale ma addirittura su Untapped dove l'ho appena cercata è indicata come Sour o Red Flemish e non credo però sia corretta questa indicazione ma adesso lo scopriremo. 6,7 il volume alcolico di questa birra, il prezzo non lo conosco perché mi è stata gentilmente regalata durante una visita alla Brasserie Lupulus dopo un massiccio acquisto di merchandise mi è stata regalata anche questa bottiglia. Il bicchiere suggerito, allora il bicchiere che utilizzerò io sarà una coppa brandizzata Lupulus semplicemente appunto perché è brandizzata dal birraificio, se fosse un Amber Ale andrebbe però ovviamente versata in una pinta, quindi un bicchiere aperto. Se si trattasse invece come sostiene Untapped di un Flemish Ale, quindi di una rossa delle fiandere, in quel caso sarebbero meglio i bicchieri a tulipano. E sì, si tratta di un primo assaggio. Allora, come dicevo questa birra appunto non conosco il prezzo, non l'ho messa al giallo, quindi non so appunto se lo stile indicato su Untapped sia corretto o se invece si tratta di una più generica Amber Ale perché appunto è la prima volta che la assaggio. Questa bottiglia appunto come appena detto in precedenza mi è stata donata durante la visita della Brasserie Lupulus questa estate e a proposito sto realizzando un video per provare a raccontare un po' le tappe dell'ultimo viaggio che ho fatto appunto in Belgio e non so se uscirà prima quel video o prima questo, in ogni caso in quel video metterò poi un link a questa degustazione, visto che ne parlerò, e quando pubblicherò quell'altro, se lo pubblicherò dopo il video che state vedendo adesso, metterò poi su questo video un link al video sul generico tour belga. Come dicevo dopo un massiccio acquisto di merchandise ci è stata regalata questa bottiglia che appunto c'è stata spiegata, è stata commercializzata per il mercato italiano a partire da questa estate. Bottiglia che peraltro infatti passando all'estetica della bottiglia appunto si discossa completamente da tutta la linea Lupulus sia per la forma della bottiglia che ha questo collo lungo e poi spanciata la bottiglia a differenza delle altre bottiglie Lupulus che hanno invece una forma un po' più affusolata, ma soprattutto si distingue tantissimo per la tipologia di etichetta. Il tappo, vabbè in questo caso, è un tappo nero senza alcun logo o alcun tipo di scritta, mentre l'etichetta, che è una singola etichetta che ricopre completamente tutta la bottiglia, è proprio completamente diversa dalle classiche etichette Lupulus, tanto che non compare nemmeno il logo di Lupulus, né in versione diciamo completa come sulla coppa, né in logo stilizzato come sulla Bok, che tra l'altro trovate sempre su questo canale, la degustazione della Bok, sia tutte le altre BR Lupulus che hanno in un modo o nell'altro un richiamo o a questo logo o a una versione stilizzata di questo logo o la Hibernatus, mi viene in mente, ha comunque un lupo anche se disegnato in stile un po' più fumetto, però comunque c'è sempre il rimando al lupo, al lupo e al lupolo. In questo caso no, l'etichetta con il fondo rosso e bordeaux riporta il nome, appunto Jolly Poupee, riporta questo generico Modern Red Beer, una birra rossa moderna, riporta il volume alcolico, la cosa che mi ha fatto abbastanza ridere perché riporta come alcol 6,671, quindi terza cifra decimale dopo la virgola, cosa piuttosto rara, di solito ci si ferma il primo decimale. E poi c'è questo disegno con questa, sembrerebbe una pin-up, molto tatuata e sui vari tatuaggi ci sono appunto due riferimenti o al mondo della birra o la scritta stessa Lupulus, appunto ci sono disegnati dei fiori di luppolo, c'è disegnata una spiga d'orzo e insomma le braccia tatuate della ragazza rimandano comunque a ingredienti o comunque al mondo della birra. E sullo sfondo c'è una foglia e dei fiori di luppolo. Altre indicazioni particolari, sul retro indica 4 malti, 4 selected mals, indica 22 eibu e viene riportato anche in questo caso un generico Belgian Red. Per corretezza dobbiamo sempre ricordarci che non esiste uno stile vero e proprio di birra rossa, la birra rossa proprio non è riconosciuto come stile all'interno del BJCP ma in generale non indica uno stile vero e proprio. Quelle che genericamente forse a livello commerciale vengono chiamate come birre rosse molto spesso sono delle ambere, quindi uno stile anglosassone. Esistono però varianti di birra che hanno un colore che potremmo comunemente chiamare rosse ma anche in fase di degustazione e valutazione si tende a non utilizzare mai il termine rosso piuttosto appunto ambrato o poi dopo le diverse definizioni e descrittori visivi. Fatta questa introduzione su questa nuova birra arrivata da pochissimo sul mercato, soprattutto su quello italiano appunto da questa estate, quindi da un paio di mesi al massimo. Direi che possiamo aprirla. una schiuma molto abbondante quindi mi fermo, visto che la birra è molto molto limpida e non c'è praticamente quasi fondo, posso permettermi di rimettere la bottiglia in verticale e poi fare un rabbocco. Se fosse stata una birra con molto fondo ovviamente teniamo sempre conto che nel momento in cui rimettiamo la bottiglia in verticale andremo sicuramente a smuovere il fondo e sarà compromessa poi la limpidità della birra. Cosa che può essere o non essere di interesse a chi beve, ma se ci dovessi interessare fare un'analisi molto precisa appunto potremmo andare poi a non valutare correttamente la limpidezza della birra solo perché abbiamo mosso il fondo della bottiglia. Altra cosa come al solito possiamo sempre scegliere di separare il fondo con i lieviti in un altro bicchiere, degustarlo a parte o bere tutto insieme sempre in base al gusto personale. sto ovviamente parlando e prendendo tempo per far sì che questa schiuma si compatti e poi dopo possa versare ancora almeno un colpo. Ok allora direi che possiamo fare una prima analisi di questa birra. Per quanto riguarda l'analisi visiva ovviamente direi una schiuma abbondante con una texture fine molto compatta e il colore di questa schiuma non è propriamente una schiuma bianca, direi che è un color panna o un beige molto molto chiaro. Per quanto riguarda il colore della birra, allora la birra è sì in questo caso una birra ambrata, una birra sicuramente non velata perché si riesce perfettamente a vedere attraverso, riesco addirittura a vedere il logo lupulus dall'altra parte del bicchiere, ha dei riflessi più chiari sicuramente se la punto in direzione della luce e si vede già una buona carbonazione. L'intensità olfattiva devo dire che è davvero bassa, cosa peraltro abbastanza comune devo dire nelle birre di lupulus. Sulle cose che emergono beh innanzitutto appena avvicinate al naso ho pensato subito che si tratta di una amber ale inglese perché sa proprio tanto di, al naso appunto sembrerebbe proprio di non usare un amber ale o forse ancora un bitter ale inglese. Quindi gli aromi sono in questo caso molto delicati e molto bassi per quanto riguarda appunto l'intensità e per quanto riguarda la qualità, quindi la tipologia dei scrittori direi sicuramente malto e caramello e poco altro. Forse un leggero tostato ma molto molto leggero, comunque principalmente un caramello e un malto tipico appunto secondo me delle birre anglosassoni. Forse c'è anche un leggero fruttato però davvero molto molto leggero in questo caso. Beh innanzitutto confermo esattamente ciò che avevo pensato inizialmente, mi ricorda tantissimo l'Aubiter Ale, per essere precisi soprattutto visto che supera il tasso alcolico previsto per le bitter ale, direi che è una special bitter o ISB, quelle bitter ale che superano i limiti dei se non erro 4 gradi e mezzo, comunque che vanno oltre sicuramente i 5 gradi, infatti siamo a 6 gradi e 7, però rientra in una amber ale classica appunto britannica. Per gli scrittori appunto in bocca c'è una classica apertura abbastanza dolce, non dolcissima, ci sono bitter ale secondo me un po' più morbide, un po' più dolci come apertura, in questo caso no. Arriva infatti subito questa lupolatura delicata, non sempre eccessiva, ed è interessante che sul finale secondo me non si sente poi solo il classico amaro, ma si sente ancora un pochino questo caramello, quindi non ha un finale proprio proprio secco, ma questo leggero leggero lupolo erbaceo e il caramello che un pochino si mantengono, si alternano entrambi sul finale della birra. Per quanto riguarda le sensazioni boccali invece direi un'elevata frizzantezza che tutto sommato secondo me sta perfettamente bene all'interno di questa birra e nulla di più, non noto né acidità né astringenza e quindi direi che sì effettivamente la denominazione come Flanders Ale indicata su Untapped è sicuramente sbagliata, ma appunto ci troviamo davanti a una discreta Amber Ale appunto di stampo britannico nonostante sia brassata in Belgio, nonostante ci sia la generica Belgian Red sull'etichetta. Alcune considerazioni, è una birra secondo me facile da bere come tutte le Amber Ale, anche se a differenza delle birre inglesi ha un grado alcolico un po' più alto perché siamo a 6,7 gradi, quindi insomma è un po' maggiore rispetto allo standard perché la rende un attimino forse meno beverina delle birre inglesi da 4 gradi. Pensandola però un pubblico italiano, visto che mi è stato detto che appunto questa birra è stata pensata anche e soprattutto per il pubblico italiano, si devo dire che dipende sempre dalla facilità di sopportazione dell'alcol che è molto personale probabilmente. ha il grosso vantaggio che un pubblico tipicamente non molto esperto, come spesso mi sembra di notare sia quello italiano che pensa di bere qualcosa di particolare con una rossa o addirittura si spinge a rossa doppio malto, beh questa è rossa è doppio malto che che significhi la frase doppio malto, o meglio sappiamo che significa semplicemente una certa quantità, una certa densità di zuccheri nel mosto iniziale che può avere valore a livello legislativo ma lo ha molto meno a livello poi dell'informazione da parte del consumatore perché a me consumatore interessa relativamente poco la densità zuccherina del mosto, interessa per sapere la tipologia di birra. Comunque considerando quel pubblico non magari eccessivamente competente ma che vuole qualcosa di diverso dal lager industriale e quindi si spinge addirittura su una rossa doppio malto, beh qui trovo una birra molto buona, un po' alcolica effettivamente, meno alcolica di certe triple belga ma più alcolica delle rosse e passatemi termini inglesi e quindi potrebbe essere sì che funzioni per il mercato nazionale. ovviamente la mia speranza è che il pubblico diventi sempre, il pubblico di consumatore diventi sempre un po' più attento e magari anche conoscente, consapevole di quello che sta bevendo quindi il mio sogno è un giorno non sentire più gente che chiede delle birre doppio malto ovviamente. Questa quindi era la Jolly Poupée di Lupulus direttamente dal Belgio, scoli. Grazie a tutti.